Gwenda Goria, celebre personaggio del mondo dello spettacolo, ha partecipato recentemente alla sua prima festa ufficiale in famiglia, accompagnata dal marito e dal piccolo Noah. Per Gwenda, questo evento ha segnato un momento speciale, la sua prima uscita pubblica con il figlio. Nonostante l'atmosfera vivace della festa, il piccolo Noah ha trascorso gran parte della serata serenamente addormentato tra le braccia della mamma, dimostrando un temperamento calmo e tranquillo. Il momento di intimità tra madre e figlio non è passato inosservato. Noah ha fatto la sua prima apparizione davanti ai fan di Gwenda, che hanno potuto ammirare la sua dolcezza e il legame speciale con la mamma. La serata si è svolta nel migliore dei modi, tra sorrisi e balli, con Gwenda visibilmente felice e piena di energia, nonostante le notti insoni tipiche dei neogenitori. Il supporto del marito, sempre presente al suo fianco, ha reso il momento ancora più significativo per la coppia. Nonostante lo stress che ogni tanto caratterizza la routine di una famiglia con un neonato, Gwenda e il suo marito hanno dimostrato di vivere con gioia ogni istante, affrontando con amore anche le piccole difficoltà quotidiane.